Gentili telespettatori, buona giornata. Il leader di Italia Viva su Instagram va all'attacco di Giorgia Meloni e dice proprio così, con Meloni occhio al portafoglio, parlando degli aumenti. E parla de che dal governo ci sono tre regali sotto l'albero, rincari per benzina, pedaggi autostradali e altri beni. Ma attenzione, i rincari per la benzina non è che il governo sta rincarando la benzina, il governo sta togliendo quel taglio alle accise di 18 centesimi e i pedaggi autostradali sono aumentati direi 5-6 volte meno dell'inflazione. Quindi il pedaggio autostradale che doveva aumentare del 12% è stato aumentato del 2% più un altro 1,3% a luglio. Quindi di gran lunga inferiore all'aumento che si sarebbe dovuto fare. Ma così, Renzi invece dice che attenti al portafoglio è buon anno, c'è il governo Meloni. Così in un video su Instagram il leader di Italia Viva dice che dopo qualche giorno di vacanze si riparte con tre regali sotto l'albero. Dice è fantastico, quando era all'opposizione Meloni denunciava lo Stato, dice prende troppi soldi dalla benzina, ora che al governo lei aumenta la benzina. No, non ha aumentato la benzina la Meloni, ha tolto gli sconti fatti da Draghi perché il governo non ha più soldi per sostenerli, quei soldi li ha dirottati per tagliare le bollette. Quindi quando Renzi dice che la Meloni ha aumentato la benzina, sta dicendo la cosa in un certo modo che l'elettore immagina che la Meloni abbia aumentato le tasse sulla benzina. In realtà no, ha tolto lo sconto di 18 centesimi che era stato fatto prima. Lo sconto non è una cosa natural durante, per sempre. Dice è fantastico però, dice Renzi, lo Stato prende troppi soldi dalla benzina, ma Renzi sta facendo la stessa cosa che faceva la Meloni. Criticare le tasse sulla benzina, poi quando si governa si capisce che le tasse non le puoi tirar giù perché sennò mancano i soldi allo Stato e fallisce prima del tempo. È una conseguenza ovvia. Quando sei all'opposizione dici le tasse sono troppo alte come Salvini, il canone Rai lo cancelliamo, adesso il governo l'ha cancellato. No. Perché? Perché cancellare il canone Rai si parla di 100 milioni di euro che poi lo Stato deve prendere e dargli alla Rai perché non è in grado di sorreggersi da sola sulle proprie gambe. Una cosa è la campagna elettorale, una cosa è l'opposizione e una cosa è poi governare e fare i conti con la calcolatrice, che mancano i soldi. Ma Renzi dice, poi dicono dal governo la pacchia è finita. Sì, la pacchia è finita per gli automobilisti, dice Renzi. Insomma, Renzi ha fatto la sua piccola propaganda dicendo all'elettorato suo potenziale la Meloni attenti al portafoglio perché è arrivata la Meloni, prometteva in campagna elettorale, prometteva dall'opposizione, ma arrivata lei ci sono dei rincari. Cosa che i rincari dei pedaggi sono automatici, i pedaggi autostradali, anzi sono inferiori a quello che dovrebbero essere. rincari per la benzina, in realtà non c'è un rincaro per la benzina, sono stati tolti degli sconti, non c'è un rincaro per la benzina. Sono stati tolti degli sconti, ora si paga la benzina senza il taglio delle accise. Ecco, perché? Semplicemente perché lo Stato non se lo può permettere, non se lo può permettere, non ci sono i soldi. Questo è chiaro, ma quando si è all'opposizione questo dettaglio si omette. Tanto è facile, stai guidando, lui in macchina tira sul telefono, fa un bel video, buon anno a tutti, occhio al portafoglio che c'è la Meloni. Questo lo possono fare tutti, tutti. Voi sapete che quando si è all'opposizione si racimolano voti? Funziona così. Gli italiani dopo un po' che c'è un governo si stufano e cominciano a dire che votano per altri. È sempre stato così. L'avete visto? I grillini arrivati al 34%, poi crollati. La Lega arrivata al 34% e poi crollata. È un iter dal quale passano tutti i partiti. Il partito di Berlusconi, stessa cosa. Tutti i partiti arrivano al governo e poi crollano perché gli italiani sono scontenti, perché pensavano, immaginavano che quel premier avrebbe potuto fare chissà che cosa e poi si accorgono che in Italia i premier non possono fare niente e allora cambiano partito. Però dall'opposizione, come oggi Renzi all'opposizione, è facile raccontare occhio al portafoglio c'è la Meloni. È facile perché tu dall'opposizione non devi tirar fuori la calcolatrice e far quadrare i conti. Puoi parlare a ruota libera. Ah, le pensioni dovrebbero essere a 1000 euro, 1500 invece non ci sono. È facile parlare senza dover giustificare i numeri e senza dover trovare i soldi. Poi quando sei al governo e capisci che le tasse sulla benzina non le puoi togliere, perché sennò poi ti mancano i soldi nella contabilità, allora poi cambia tutto e cambia anche la visione delle cose. Ricordiamoci che in Italia i premier, i capi del governo possono fare poco o niente. Un premier di sinistra, di destra, uno che vale, uno che non vale, non cambia quasi nulla, perché l'Italia con l'indebitamento che ha non può fare assolutamente quasi niente. Questa è la realtà. non può immettere moneta, non può sottrarre moneta, non può influire sull'inflazione, non può fare politica monetaria, non può abbassare il debito, non può alzare le tasse, non può fare assolutamente niente. Anzi, quello che vi raccontavo proprio ieri, che oggi i pensionati sono 205 mila in più dei lavoratori, cioè siamo in una situazione di fallimento del sistema pensionistico, cioè si pagano più pensioni in termini monetari di quello che arriva dalle entrate delle tasse. Quindi le tasse italiane così alte non sono sufficienti a pagare le pensioni. In più, lo Stato è terribilmente indebitato e non può fare nulla. Pertanto, all'opposizione è facile dire, ah, di qua, di là, attenti al portafoglio, e quando poi sei al governo ti accorgi che non puoi fare quasi niente. A meno che non ci sia un boom economico nel paese, allora con soldi che arrivano in più di tasse, eccetera, eccetera, allora puoi cominciare a fare qualcosa. Ma tutto è sempre vincolato dall'economia del paese. Grazie a tutti e arrivederci a presto.